Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, conferenza stampa che è stata convocata per presentare e dare avvio a un progetto che riguarda la costituzione delle cosiddette Idrogen Valley, ne sono ben tre che alla fine come Regione Marche riusciamo a sostenere attraverso un bando nazionale legato al PNRR che prevedeva la possibilità di finanziare dei progetti per produzione di idrogeno verde in zone, in aree industriali dismesse. Io ringrazio la presenza innanzitutto di amministratori che sono venuti da Falconara, da Uffida, i sindaci, vi ringrazio per la loro presenza, ma anche il sindaco di Fano, neoeletto, quindi sarà impegnato nelle sue attività perché i tre progetti finanziati sono progetti che ricadono in aree comunali tra l'altro ben distinte e distribuite nel nostro territorio, ovvero uno nella provincia di Fano, nel comune di Fano, uno nella provincia di Ancona, nel comune di Falconara e un altro nella provincia di Ascoli, nel comune di Uffida. Quindi tutta la nostra Regione, ovviamente è una casualità, è una coincidenza, però ben bene, che è rappresentata da tutte e tre le progettualità finanziarie. Con me c'è l'assessore Brandoni che ha un ruolo importante, poi dirò perché, nella fase successiva alla produzione appunto dell'idrogeno, di questa fase iniziale, e un ringraziamento particolare lo voglio fare al mio ufficio Energia, che nonostante non abbia numeri enormi di funzionari, ma è un ufficio che sta crescendo e deve crescere rispetto soprattutto all'importanza di un settore che ormai è diventato strategico come quello dell'energia in questi ultimi anni. Io ricordo quando sono stato assessore all'energia della provincia di Ascoli, 15 anni fa, era la prima volta che si parlava di una delega all'energia e non ce n'erano tante altre, perché si era appena creata un'attenzione, che poi adesso ovviamente è sempre più forte, verso ovviamente uno dei settori più importanti per l'economia, per la vita sociale di un territorio. Quindi ringrazio il dottor Sbriscia e la dottoressa Grassi per il lavoro puntuale che hanno fatto, e non semplice, certamente. Quindi saranno loro a entrare nel dettaglio con alcune slide e quindi vi illustreranno anche le varie fasi che abbiamo affrontato. Io vi dico in generale un po' quello che come Regione Marche abbiamo voluto condividere rispetto a questa occasione. Allora, innanzitutto voi sapete che il concetto dominante è quello della decarbonizzazione, cioè ovvero un processo che l'Unione Europea, ovviamente insieme a tutti gli Stati, ha ormai messo in atto da diverso tempo con degli obiettivi ben determinati per cercare di sostituire praticamente le fonti di energia inquinanti, quelle non sostenibili, non rinnovabili, che producono CO2, che alla fine poi comunque non hanno un ciclo di vita perenne, con invece le energie derivanti da fonti rinnovabili. E all'interno, io ovviamente la faccio molto semplice e molto breve, all'interno di questo percorso è stato individuato l'idrogeno verde, perché verde? Perché l'idrogeno può essere di vari colori per l'appunto, ma verde proprio perché derivante da fonti energetiche sostenibili. In questo caso tutti e tre i progetti, tranne uno che poi ha avuto una variazione nel tempo per motivi proprio legati a una nuova disciplinare all'interno dell'Unione Europea, si muoveranno sostanzialmente con una produzione di energia elettrica derivante dai cosiddetti pannelli fotovoltaici. Sostanzialmente, diciamo maggiormente, è questa la fonte che produrrà energia rinnovabile, energia solare, quindi attraverso questi pannelli. L'idrogene, questa è la parte che a noi interessa in modo particolare, che già era presente nei requisiti che noi richiedevamo ai progetti presentati, deve essere poi ridistribuito, deve trovare la sua distribuzione in progetti che riguardano appunto lo sviluppo di prossimità del territorio, cioè non progetti anche teoricamente, penso, però la cosa, diciamo, l'obiettivo principale richiesto ed era anche qualificante da un punto di vista di punteggi è quello appunto, era quello di sviluppare una distribuzione il più possibile locale di territorio di prossimità. Saranno poi i rappresentanti delle società, delle aziende presenti che ringrazio, ringrazio per la presenza, ringrazio anche per la pazienza, perché comunque in questi mesi un processo che è durato più di un anno, ma sappiamo anche perché con le interlocuzioni a livello nazionale e soprattutto vi ringrazio per la qualità dei progetti presentati, per questo lo dobbiamo dire e come marchigiani dobbiamo anche esserne contenti e orgogliosi, in una fase poi di ulteriore, qui ce ne parlerà poi Massimo Sbriscia, di riattribuzione di ulteriori risorse, sono state premiate quelle regioni che avevano anche i progetti più qualificati, quindi noi come Regione Marche abbiamo avuto il massimo di quello che avremmo potuto avere, ciò significa appunto che la qualità dei progetti è stata riconosciuta di alta qualità e questo ci fa molto piacere, quindi alla fine noi, lo dico in maniera molto banale, avevamo la possibilità di finanziare un progetto e mezzo, diciamo in un certo senso, alla fine riusciamo a finanziarne tre e le aziende sono qui presenti, poi si ovviamente presenteranno e ci racconteranno brevemente però anche la loro storia del progetto e quelli che sono i loro obiettivi. Concludo dicendo che fondamentale l'idrogeno sarà soprattutto poterlo immaginare in un supporto ai trasporti pubblici regionali e qui appunto chiamo in causa il collega Brandoni che ha una delega specifica, è fondamentale perché sarebbe una rivoluzione da questo punto di vista ovviamente che deve prevedere anche una riconversione degli stessi mezzi perché ovviamente con alimentazione, un'alimentazione diversa rispetto a quella tradizionale e ovviamente un'attenzione verso l'industria, proprio la lenele, sapete, tante industrie energivore che abbiamo nella nostra regione e poi io mi permetto anche di consigliare e ovviamente è un consiglio che poi come regione noi diamo assoluta disponibilità a condividere anche ulteriori passaggi, tra l'altro con le tre aziende visto l'importanza della progettualità complessiva siamo rimasti d'accordo che faremo un tavolo comune proprio per portare avanti anche determinate progettualità future dicevo anche un occhio di riguardo verso il comparto della nautica, della cantieristica noi come regione Marche stiamo sempre di più guadagnando degli spazi importanti per la cantieristica anche la cantieristica di dimensioni importanti, noi abbiamo fin cantieri ma non solo, gruppo Ferretti, cantieri, cantieri Marcheggiati, abbiamo diverse di società importantissime da questo punto di vista di aziende importantissime quindi immaginare anche lì uno sviluppo dell'idrogeno per la nautica credo che sia un'opportunità importante e soprattutto ci legherebbe al concetto di filiera corta che è il concetto veramente reale di sostenibilità economica, ambientale e gestionale. Quindi io qui concludo ringraziando veramente tutti gli attori di questo progetto che non finisce qui ma appunto avrà degli sviluppi interessanti che seguiremo e sosterremo di volta in volta. Quindi do la parola al dottor Sbriscia, al dirigente del servizio energia. Bene, io farò una brevissima introduzione perché poi le slide e il documento che abbiamo preparato per chiarire bene il percorso lo farà la dottoressa Grassi e ci tengo che lo faccia lei perché è stata l'anima e il cuore di tutto questo lavoro e del primo risultato che stiamo cogliendo ma ne avremo uno ben più grosso da cogliere entro i termini che ci sono dati e che sono molto sfidanti perché insomma i tempi per arrivare a compimento dell'opera sono veramente molto stretti. La premessa che ci tengo a fare è questa, il perché dell'idrogeno, perché potrebbe essere anche poco capito. Allora sicuramente l'idrogeno è una fonte energetica che assolve bene per determinate tipologie d'uso. Io sono convinto che la soluzione in termini energetici non è una ma è una molteplicità di fonti dalle quali attingere. Sicuramente noi avremo, abbiamo fortemente la necessità e l'abbiamo visto con le montagne russe dei costi energetici, abbiamo fortemente la necessità di una maggiore autonomia dal punto di vista della produzione d'energia. Quindi evidentemente l'energia per la maggiore si produce col fotovoltaico ma speriamo che prendano piede anche l'eolico, soprattutto l'eolico offshore che può dare grosse quantità di energia e probabilmente anche con una accettabilità da parte sociale probabilmente più alta. Però ovviamente queste fonti funzionano limitatamente ad alcuni aspetti. Pensiamo ad esempio al trasporto. Oggi il trasporto elettrico è limitato all'automobile quindi pensare di fare un trasporto elettrico su gomma per le merci è impensabile, non è fattibile. Quindi ecco l'idrogeno ha questa peculiarità. L'idrogeno sarà sicuramente la fonte privilegiata per il trasporto pesante, per il trasporto pubblico locale perché ovviamente abbiamo visto attraverso partecipazione a progetti europei in Polonia alcune applicazioni di trasporto pubblico locale elettrico, però è molto complesso perché in realtà c'è la necessità di una continua ricarica e ciclicità dei mezzi, è veramente complicato. Quindi trasporto pubblico e trasporto pesante uguale a idrogeno. Altrettanto di tutta la parte industriale che sono i cosiddetti hard to wait, cioè le attività industriali, penso ad esempio alle pressofusioni metalli e plastiche, penso alle ceramiche, ci sono parecchie attività industriali che evidentemente non possono essere compatibili con una produzione di energia diretta da fotovoltaico o da un'altra fonte rinnovabile. Quindi il percorso è questo. Prima di passare la parola alla dottoressa Grassi ci tengo anche a evidenziare quanto le imprese della nostra regione siano mature per questo tipo di tecnologia. Noi proprio agli albori, quando ancora il bando era un qualcosa che il Ministero ci aveva vagamente raccontato, siamo partiti con una sorta di avviso per capire quali erano le possibilità nel territorio. Da questo avviso sono giunti, se non ricordo male, 12 diversi progetti proposti da diverse imprese che ci hanno fatto comprendere che c'era un forte dinamismo, una forte capacità di dare risposte in questo senso. Ecco qui il risultato, veramente noi siamo molto soddisfatti perché siamo partiti da un'assegnazione di fondi pari a 14 milioni e stiamo arrivando perché l'ultima fetta c'è rimasto un piccolo passettino di un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che andrà a coronare. Quindi arriveremo a oltre 36 milioni, quindi questo penso che sia un risultato che prima di tutti è dovuto alla grande professionalità e alle capacità progettuali delle imprese marchigiane a cui va veramente il mio apprestamento. Prego. Dottoressa, grazie. Va bene, grazie. Effettivamente il percorso è stato veramente contingentato, è anche difficile per noi come pubblica amministrazione appunto vista anche l'eseguità del personale con cui ci trovavamo a far fronte. Dall'anno scorso ci è stato chiesto a gennaio di emanare il bando, diciamo i primi di gennaio appena rientrate le ferie, emanare il bando entro il 30 gennaio dello stesso mese, ci siamo messi all'opera, fortunatamente appunto il territorio era già anche pronto proprio per l'indagine di mercato che avevamo fatto. Abbiamo emanato, siamo riusciti a approvare i criteri e emanare il bando entro gennaio e la corsa poi è stata quella di riuscire ad approvare le gradatorie entro il 30 aprile, anzi il 30 marzo addirittura, perché sostanzialmente il Ministero doveva rispettare il target previsto al PNR che richiedeva che tutte le regioni approvassero le graduatorie entro il 30 marzo. Ce l'abbiamo fatta, quindi diciamo il Ministero anche grazie alla regione Marche ha raggiunto l'obiettivo, la primo target PNR, questo siamo rimasti anche molto meravigliati che comunque sono stati ammessi 5 progetti in graduatoria, se vedevamo il rapporto tra risorse erogate alle regioni e progetti presentati, la regione Marche si collocava tra le prime posizioni in termini appunto di progettualità, di numero di progetti presentati in proporzione alle risorse erogate, progetti alta qualità confermati appunto poi dalla graduatoria appunto che è nazionale perché Renco è seconda e Tecnofem è terza, per cui questo ci fa molto onore. Le difficoltà poi sono arrivate per la concessione perché sostanzialmente, non so se potete andare le slide così magari avanti, diciamo più, vabbè, ok. Ecco questi erano i 5 progetti che sono stati presentati, come vedete appunto la distribuzione sulle aree era omogenea, si andava dal sud delle Marche, quindi a Uffila, poi Falconara col progetto di Renco, Fano, Energetecnofemme, Api Raffineria, al sito di Ancona e Nerenco che era un progetto su ex Aquaterra Comuni San Lorenzo in campo. Ci sarebbe piaciuto finanziarli tutti, pensevamo che le risorse aggiuntive potessero essere utilizzate tutte per la graduatoria, singola graduatoria regionale, purtroppo poi la dinamica è cambiata in quanto appunto si è deciso per gli scorrimenti di fare una graduatoria nazionale. Le regioni, c'è stato un lungo lavoro di concertazione tra tutte le regioni anche nella scelta dei criteri, la regione ha inciso molto nella scelta dei criteri, siamo molto contenti perché alla fine hanno diciamo accettato anche le nostre proposte e comunque come vedete, scusate prima, il contributo, questo era solo il contributo, il fabbisogno era 62 milioni di euro di contributo, quindi capite qual era l'entità. Siamo riusciti a fare la concessione con qualche difficoltà il 14 luglio dell'anno scorso, su questo è inciso un po' l'incertezza della normativa comunitaria perché sostanzialmente allo Stato la Commissione Europea aveva chiesto di emanare vandi e quindi di iniziare a fare gli appalti quando ancora non c'era la decisione sugli aiuti di Stato e non c'erano ancora delle regole chiare. Logicamente quando le regole arrivano a giochi fatti la situazione si può complicare, effettivamente si è complicata e questo quindi ha portato sostanzialmente allungare un po' i tempi per la concessione. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo stipulato gli atti d'obbligo entro agosto e poi abbiamo dovuto approvare proprio per l'applicazione queste regole che sono subentrate dopo una piccola variante per quanto riguarda il primo progetto che però si è ridotto sostanzialmente il contributo di circa 500 mila euro sostanzialmente da 9 milioni 8,60 a 9 milioni 3,67 e la Renco veniva comunque finanziata solo parzialmente c'è per 4 milioni 140 rispetto a un progetto di 12 milioni e 9 e poi comunque la Renco ha un progetto, la RT Renco è un progetto molto più ampio che poi vi descriverà nel dettaglio. Finalmente dopo una lunga concertazione l'approvazione del repowering che è avvenuta con una decisione dell'Ecofin di fine dicembre che rinforza il PNR e quindi va a potenziare le misure che hanno avuto dei buoni risultati mentre va a ridurre quelle che hanno avuto dei risultati più non adeguati rispetto alle tempistiche che sono state determinate. Sappiate che dobbiamo raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026, fra due anni, eccolo qui che siamo quasi arrivati e quindi dopo questa lunga concertazione si è arrivati all'approvazione del decreto del Mase del 17 aprile che però è diventato efficace a seguito della registrazione a Corte dei Conti il 29 5 e il 29 maggio, questo decreto che fa stanzia le risorse integrative risultanti dalle varie economie di tutte le regioni e consente di finanziare la RENCO per 8 milioni 760 che erano risorse residue. Allo stesso tempo approva queste gradatorie nazionali dove i progetti appunto della regione Marche si collocano in ottima posizione, consente alla regione Marche di procedere quindi alla vera e propria concessione verso RT RENCO, la concessione nei confronti Tecnofem dovrà aspettare qualche settimana perché sappiamo comunque c'è già stato l'incontro, le regioni hanno condiviso l'altro decreto, sappiamo che verrà firmato venerdì prossimo, però abbiamo una certezza che è il decreto del MEF che è stato pubblicato il 10 giugno, il decreto del MEF del reparo in istanze a 90 milioni di euro proprio per questa misura e queste risorse vengono utilizzate secondo i criteri che sono già stati approvati, per cui basta guardare le gradatorie e diciamo quindi Tecnofem rientra nei 90 milioni di finanziamento. Le risorse integrative sono 22 milioni 760, quindi facciamo un bel salto da 13 milioni 507, passiamo a 36 milioni 267. Questo è il quadro quindi dei progetti che verranno finanziati, che porteranno a una produzione di idrogeno verde tonnellate anno di circa 464,38 anno e quindi diciamo una buona produzione, più che altro per partire e sperimentare quindi i siti di produzione di idrogeno sul nostro territorio e il costo investimento ammesso, quindi quello che il contributo genera è 38 milioni 244, più sicuramente sappiamo che le aziende hanno intenzione di estendere comunque l'investimento con risorse proprie. Niente, passerei quindi a questo punto la parola alle imprese per capire bene o all'assessore così. Grazie, dunque due delle mie deleghe riguardano l'oggetto della conferenza stampa odierna, una della programmazione europea, anche se questi fondi vengono dal piano nazionale di ripresa e resilienza, che ricordo il piano nazionale di ripresa e resilienza è Stato, Comuni o chiaramente Unione dei Comuni e quant'altro e della cifra totale del piano nazionale di ripresa e resilienza solo 452 milioni verranno gestiti dalla Regione Marche. Tornando alla programmazione europea, abbiamo chiuso la programmazione 14-20, è iniziata la programmazione 21-27 che ricordo è stata approvata dalla Commissione europea a ottobre del 2022, noi l'abbiamo approvata in giunta a febbraio del 23 e oggi siamo a giugno del 24 e pensate che abbiamo messo a bando già oltre il 50%. Chiaramente ci saranno dei bandi che riguardano l'energia nella sua interezza e totalità, però non l'idrogeno in particolare, comunque sicuramente potrebbero anche come emissioni avere dei cambiamenti. Come diceva l'ingegnere il riferimento più importante dell'idrogeno per quello che riguarda il trasporto pubblico locale. Un'informazione generale per capire il trasporto pubblico locale, il trasporto pubblico locale regionale, ferro e gomma, il ferro è chiaramente Trenitalia con cui abbiamo un contratto di servizio e che è quello ferroviario, quindi da Gabice a Portodascoli e chiaramente dalla Costa fino agli Appennini. Ma quello che è più interessante è il TPL gomma, nelle marche esistono cinque aziende consortili, ogni azienda consortile è provinciale, quindi cinque province, cinque aziende consortili. È molto importante, pensate che è un settore come potete immaginare in crisi totale perché al trasporto pubblico locale, pensate solo al 2021 quello che è successo con la pandemia, il 2021 il trasporto pubblico locale è stato quasi bloccato completamente, quando pensava di rialzarsi dalla pandemia è iniziata la crisi energetica, è iniziata la crisi energetica con aumenti dei costi dei carburanti, pensate che tutti hanno su cinque aziende consortili, quattro aziende consortili hanno principalmente un'alimentazione a gasolio, solo la provincia di Ancona e specialmente Atma con Erobus che ha due distinzioni, perché Atma è l'urbano di Ancona con Erobus è Ancona e provincia e l'urbano di Ancona si contraddistingue prettamente con il metano e il metano nel periodo critico della crisi energetica ha aumentato il 300%. Bisogna guardare avanti, pensate che come Regione Marche, come assessorato che mi riguarda personalmente non trascorrono tre mesi che io non incontro tutte e cinque le aziende consortili, ultimamente siamo arrivati a, sto parlando di alcuni mesi anni fa noi finanziamo l'80% degli autobus per ora a gasolio, perché è uscito, no è uscito, c'è stato un finanziamento da parte dello Stato di 157 milioni che riguarda il decennio 2333, chiaramente quando esistono questi finanziamenti vengono dall'Europa, transitano allo Stato e si riversano sulle regioni. Allora in questo momento siamo 2333, siamo nell'anno 24 quindi diverse aziende consortili, per esempio ho inaugurato 9 autobus a metano a Fermo, abbiamo inaugurato 4 autobus a metano qua nella provincia di Ancona e 2 autobus a Pesaro. Però bisogna guardare avanti, cosa ci ha detto l'Unione Europea in questo decennio 2333? Ha detto guardiamo sempre di più negli anni all'elettrico e all'idrogeno, in questo momento l'elettrico ha tanti punti interrogativi e quindi prima di tutti ancora oggi le aziende di trasporto pubblico locale non hanno la sicurezza dei costi degli autobus elettrici, non hanno la sicurezza di quanto costerà della durata e di quanto costeranno le batterie, in quanto tempo andranno chiaramente sostituite e quanto costerà. Quindi è un grande punto interrogativo, però l'Europa ci ha già detto 2333, care regioni nei primi anni la transizione inizialmente dal gasolio dovrete passare all'elettrico e all'idrogeno. Con una piccola variante perché ci saranno delle... l'Unione Europea ci consentirà di far acquistare ancora autobus a gasolio per quelle province della montagna, perché i luoghi di montagna, perché chiaramente c'è una ripartenza e abbiamo già visto che in alcune parti non della nostra regione e uno purtroppo è successo anche nella nostra regione, che un piccolo autobus elettrico che a pieno carico scuola bus a pieno carico non riesce a ripartire con dei pendii già di rilievo. Quindi questa è una delle criticità dell'elettrico che mi auguro che verrà risolta, però ecco perché bisogna guardare sempre di più all'idrogeno. Quindi ben vengano questi finanziamenti che l'assessore Antonini ha gestito come bando per poter guardare all'idrogeno negli anni futuri, ma l'Unione Europea ci ha già detto e lo ripeto, scusate, 23, 24, 25, non più 26, poi terminerà la fase degli acquisti a gasolio e chiaramente dopo di che dovremo passare nel decennio. Parliamo di 157 milioni all'anno, che mediamente sono 15,7 milioni, 157 il totale, diviso 10 sono 15,7 milioni all'anno. Oggi un autobus a gasolio costa 350, 380, 400 mila euro, quindi è un bel numero per una regione dalle dimensioni nostre da un milione e mezzo di abitanti, quindi ben vengano. Non sono fissi i 15,7 milioni, chiaramente ci saranno nel cammino delle compensazioni e vedere quanto negli anni 24, 25, 26 abbiamo speso. Quindi sicuramente avremo un futuro importante per l'idrogeno e questo è un tema ricorrente che abbiamo, lo ripeto, con le cinque aziende consortili che appunto ci dicono quale sarà il nostro futuro, l'elettrico e quanto ci costerà e quello che sarà l'idrogeno. Quindi aspettiamo di capire, questi sono chiaramente due o tre impianti che potrebbero soddisfare una certa parte del trasporto pubblico locale della nostra regione, ma ben vengano anche altre impianti. Grazie. Allora, grazie Goffredo Brandoni, abbiamo dieci minuti quindi dobbiamo andare, vai rapidissimo, ognuno si presenti. Buongiorno, io sono Giovanni Gasparini, sono il presidente del gruppo Renco, anche io avrei una veloce presentazione da mostrarvi, se mi poteste passare anche il telecomando. Dunque, il nostro progetto prevede di produrre idrogeno verde a Falconara, una presentazione del nostro gruppo. Noi siamo un'azienda di Pesaro, siamo un'impresa internazionale, lavoriamo in diversi paesi del mondo, abbiamo un volume di fatturato di circa 590 milioni di euro e 3.400 dipendenti in giro per il mondo. Quello che facciamo, noi nasciamo sostanzialmente come ingegneri, ingegneri nel mondo delle costruzioni civili e dell'energia. Abbiamo iniziato facendo i PC contracting, quindi progetti chiave in mano, ingegneria, procurement e installazione di materiali e con gli anni abbiamo aumentato questo concetto, lo abbiamo ampliato, siamo diventati anche sviluppatori e arranger di grandi progetti internazionali e poi siamo anche operatori di questi progetti, quindi se una volta facevamo progetti legati al mondo dell'energia per i clienti, ora li sviluppiamo dall'inizio alla fine. Lavoriamo storicamente con grandi imprese nel mondo dell'allengaggia e l'energia a livello internazionale che ci hanno insegnato quanto siano importanti i temi legati a qualità, sicurezza e sostenibilità in generale. Ed è un po' il nostro stile, noi quando andiamo a lavorare in Italia ma anche all'estero facciamo sempre attenzione a portare un impatto positivo nei territori in cui andiamo ad operare. Lo facciamo principalmente investendo, investendo in progetti infrastrutturali ma facendo anche attenzione insomma anche all'ambiente e alla parte sociale dell'attività. Per quanto riguarda il nostro progetto abbiamo vinto il bando istituito della Regione Marche insieme al gruppo Pollarini, il gruppo Pollarini è un importante gruppo industriale che fa diverse cose e che ha partecipato insieme a noi perché aveva alla fine degli anni 90 rilevato il sito che è quello dell'ex area Montedison di Falconara, potete vedere delle immagini nelle slide. Il nostro progetto mira a recuperare e rifunzionalizzare un sito dismesso valorizzando nell'arqueologia industriale. Quindi grandissima attenzione al patrimonio culturale, ambientale e locale. Abbiamo vinto, diceva prima la dottoressa, il bando per un valore di 12,9 milioni di euro di fondi che derivano dal PNR ed erano specifici per la rifunzionalizzazione delle aree industriali di smesse, oltre ad un contributo di 3,5 milioni di fondi del PNR che sono stati erogati dal Ministero dei Trasporti. Il totale dell'investimento si aggira, arriva a 60 milioni di euro, siamo stati noi e col contributo di alcune istituzioni finanziarie a coprire il resto. L'impianto di produzione sfrutta un processo di elettrolisi dell'acqua, l'energia elettrica per realizzare elettrolisi proverrà da un impianto da 7,8 megawatt, di cui 4 saranno serviti alla produzione di idrogeno. Quindi l'impianto sarà completamente ad energia rinnovabile e l'idrogeno sarà completamente verde, quindi non verranno emessi i gas serra nelle fasi di produzione. La taglia del nostro impianto è di 200 tonnellate all'anno, che possono consentire di rifornire una flotta di circa 15-20 autobus all'anno. Questa è la nostra principale off-taker, quindi abbiamo interlocuzioni con Erobus, quindi per alimentare autobus a idrogeno. Stiamo parlando anche, abbiamo delle manifestazioni di interesse con Amazon, quindi per il trasporto pesante e per ultimo anche con il porto di Ancona con la relativa cantieristica. L'area dell'impianto sarà all'interno del perimetro dell'edificio esistente, quindi dell'ex stabilimento della Montedison. Verranno demolite soltanto quelle parti della struttura che sono pericolanti, quindi non più recuperabili. Per il resto prevediamo di conservare gli edifici esistenti e di restaurarli e riportarli allo stato originale. C'è anche una interlocuzione con la sovrintendenza alle belle arti per la valorizzazione del sito. Un'ultima curiosità, abbiamo previsto un impianto di fitocapping per la bonifica parziale del terreno. Il fitocapping sfrutta una tecnologia estremamente evoluta, che sono gli alberi sostanzialmente, che andranno a filtrare il terreno per consentire la bonifica parziale appunto dell'intervento. Questa tecnologia dà dei vantaggi a livello di protezione dall'erosione, di aumento di biodiversità e naturalmente migliorano il paesaggio e consentono la carbon sequestration. Prevediamo di iniziare alla fine dell'estate le nostre attività e di completarle entro giugno del 2026. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Tonino Tonti e rappresento una delle società che hanno progettato uno degli impianti, una fattispecie nel territorio di Uffida, è un'area industriale di circa 50.000 m2 abbandonata sostanzialmente. Abbiamo colto un'opportunità, stavamo ragionando da molto tempo su come interagire sull'area terremotata di riferimento, cioè coinvolge circa 60 o più comuni, non mi ricordo neanche quanto. Stavamo ragionando di questo fatto quanto è arrivato il PNRR. Ci è sembrata un'opportunità veramente eccezionale. Il progetto nasce come un piccolo mattoncino messo in un territorio, area terremotata. Produrremo circa 150.000 kg di idrogeno. L'impianto prevede circa 5 MW fotovoltaici e 3 MW da elettronizzatore. Faccio una piccola presentazione, non è una polemica, ma un'interpretazione. Il progetto non nasce fotovoltaico, nasce un'integrazione tra calore ed energia elettrica, perché secondo noi il futuro dell'elettronizzatore passerà su questa linea. Quindi colgevamo un'opportunità che a livello territoriale sarebbe stata preferibile, al nostro punto di vista. L'interpretazione ci ha costretto alla variante e la variante l'abbiamo predisposta. Siamo rimasti i primi in graduatoria con un finanziamento 100% sull'investimento. Quindi diciamo che è abbastanza ben equilibriato come progetto. Ma ripeto, è la prima pietra, perché la nostra ipotesi è interagire con il territorio. Stiamo ragionando con dei grossi gruppi internazionali per fare un'operazione CO2-0 sull'area terremotata del riferimento, usando trasporti, produzione di strumenti, energia elettrica e calore, trigenerazione, in modo tale da rifornire le comunità locali. Questo è l'obiettivo. Il primo mattone è stato posto. Speriamo che la burocrazia, non quella locale ma quella internazionale, non si frapponga con ostacoli burocratici a questo tipo di progetto. I tempi quelli previsti verranno rispettati. Colgono due opportunità rispetto a quello che ho sentito. La prima, un'interazione tra la parte pubblica e la parte privata. È un'opportunità che se perdiamo sarebbe un peccato. Trasporti, idrogeno, nautica, trigenerazione, territorio. Non aggiungo altro, ci siamo ben capiti. Quindi l'assessore si è detto disponibile a un tavolo di lavoro e mi auguro che questo sia possibile in tempi molto rapidi, perché se riusciamo a fare con le risorse attuali esistenti, privato, pubblico, ma canalizzato in maniera adeguata e non frazionato, le opportunità sono veramente notevoli. Il nostro progetto nasce con 150.000, già previsto di raddoppio, triplicare la quantità producibile. Ci auguriamo che l'interpretazione in futuro non sia così becera come è stata quella attuale da parte della comunità europea. Però c'è un'altra linea di sviluppo importante e il tavolo di lavoro diventa veramente essenziale. Noi abbiamo fatto degli esercizi sugli autobus elettrici. Lei ha ragione, Assessore. Tra l'altro ci dimentichiamo tutti di una cosa. Se la bacchetta magica domani consentisse di avere tutte le auto elettriche, quanto costerebbe la bolletta? Ve lo siete chiesti? Lo Stato sta prendendo denaro dal gasolio, gas metano e benzina. Se quel consumo lì non ci sarà più, quanto costerà la bolletta elettrica? Qualcuno se le posto come domanda? Non quella attuale. Tutte le simulazioni oggi dicono un valore dell'energia elettrica e domani sarà più che raddoppiato, come minimo. Quando si fanno i conti forse è bene farli in maniera globale. Io non sono convinto che la scelta giusta sia quella dell'elettrico to-cure, anzi sono più propenso a pensare a un'integrazione, interazione. Tant'è che la tecnologia oggi nell'idrogeno parla di motori a combustione interna, idrogeno. è più probabile che quello sia il futuro, c'è anche il discorso che diceva prima sullo spunto, la capacità di potenza dei trasporti pubblici e via dicendo. Per cui a noi questa cosa piace. Introduco una piccola variabile al tutto, è quello che ho detto. Io mi sono fissato per produrre ossigeno dai nostri impianti. Regione, vi interessa averlo? Una provocazione a mio occhio. Se vi interessa siamo qui. Spero che anche gli altri siano disponibili a collaborare. Io sono stato oggetto del Covid, mi è rimasto in testa personalmente. Quando pensavo al Covid non c'era ossigeno, si trovava con difficoltà e vi dicendo. Abbiamo un'opportunità di trasformare i nostri impianti per produrre anche ossigeno. Non farà piacere a chi lo produce oggi, ma a me non interessa quello che non c'è oggi. Se voi siete disponibili, questo è un argomento che si può trattare. Per il resto, ecco, il tavolo dovrà chiarire alcuni passaggi nei comportamenti interpretativi del Ministero o dello Stato o dell'Europa, che sono determinanti rispetto alla possibilità operativa. E quindi io colgo con molta opportunità questo anche quello che ha detto l'assessore Brandoni sull'interazione per trasporti, consumi, e vi dicendo, per cui la cosa mi fa molto piacere. Una piccola presenza, io rappresento una piccola società che da vent'anni si occupa di energie rinnovabili, quindi quando è capitato questo siamo, come dire, eravamo abbastanza pronti, ci stavamo già ragionando. La variante non ci cambia la vita, però mi dispiace che sia stata necessaria, per i motivi che dicevo prima, e però diciamo che il tavolo di lavoro ci indica molto. Noi siamo una piccola città di ingegneria che è anche ESCO, caso vuole che sia anche una ESCO, quindi siamo, come dire, più che disponibili a collaborare con i territori in particolare. Ripeto, a me interessa molto l'ossigeno che sia utilizzabile. Grazie, buongiorno a tutti. Federico Ferrini, amministratore delegato di Tecfem, amministratore unico di energie Tecfem SRL, società Benefit, beneficiario del bando PNRR. Allora, se effettivamente gli impianti di idrogeno in realtà sono degli impianti di produzione ossigeno, non ce lo diciamo, ma è bene ricordarcelo effettivamente. Allora, vado avanti io, ecco qua, Tecfem lavorava sull'idrogeno naturalmente già da un po' di tempo e quindi il bando PNRR era già nel target. Per poter cogliere questa opportunità abbiamo costituito una sister company che è Energetecfem SRL, società Benefit, quindi con statuto Benefit, quindi un'azienda che si occupa di investimenti nel settore delle rinnovabili e di beneficio per l'ambiente. Il nostro progetto è abbastanza ampio riguarda la realizzazione di una hydrogen valley e la anche connessione con una stazione di rifornimento HRS che è stata anche essa stazione di rifornimento che è stata oggetto di un finanziamento anche questa, di un'altra misura del PNRR. La localizzazione dell'impianto è Fano, in particolar modo la zona industriale di Bellocchi, in realtà un'area industriale dismessa, ex area di lavorazione appunto di inerti, che è nelle immediate vicinanze dell'attuale area industriale e di questa sicuramente il nostro progetto ne trae beneficio, anche come potete vedere in chi conosce un po' Fano, in una localizzazione molto buona per quanto riguarda le vie di comunicazione perché si trova proprio nei pressi dello svincolo autostradale e sulla superstrada che va verso Urbino e che ci auguriamo appunto verrà connessa col TNT diagonale anche al Tirreno e con la Fano Grosseto. Il nostro progetto ha una parte appunto dall'utilizzo dell'energia rinnovabile da fotovoltaico, un impianto di circa 5 megawatt che va a trasformare l'energia attraverso un elettrolizzatore PEM di 2 megawatt. La produzione totale, l'ha ricordato la dottoressa Grassi, è di circa 130 tonnellate l'anno con una produzione oraria di 35 kg e uno stoccaggio di 250 kg. L'obiettivo è quello di andare a, è triplice, ovvero quello di, ecco questa è la planimetria alla quale stiamo lavorando per la produzione di idrogeno e questa è la cosa interessante, ovvero al di là della progettazione e sviluppo dell'impianto è il mercato dell'idrogeno che è di tanto interesse appunto per tutti. La nostra Adrogen Valley nasce con l'idea appunto di interpretare al meglio quello che è il concetto di Adrogen Valley già sviluppato anche in altri paesi in Europa, soprattutto nel nord, ovvero quello di andare a fornire idrogeno ad una molteplicità di utilizzi, infatti i nostri off-taker sono stati di supporto al progetto industriali, come vedete un'azienda importante del territorio fanese, anche provinciale e marchigiano tutto, ovvero la Profilgas, che è interessata nell'idrogeno proprio per attivare un percorso di decarbonizzazione del proprio processo industriale nella lavorazione dell'alluminio, quindi con una richiesta teorica annua in questo momento di 83 tonnellate di idrogeno. Poi, come già stato citato ampiamente oggi, il settore del trasporto pubblico locale molto sicuramente potrà beneficiare questo dall'utilizzo dell'idrogeno in alternativa all'elettrico e con Ami Adria Bus SPA abbiamo attivato un dialogo che sta andando avanti proprio per l'utilizzo dell'idrogeno nella loro riconversione del parco mezzi che dovrà gradualmente arrivare, come ricordava l'assessore Brandoni. Non abbiamo lasciato da parte nemmeno gli usi civili, sebbene diciamo meno importanti per quanto riguarda l'idrogeno, però sappiamo che le caldaie a gas saranno fuori produzione e si sta lavorando anche, l'industria sta lavorando anche su altri utilizzi, tra cui quello dell'idrogeno, per cui con AS Fano, società partecipata da Estra SPA, un grande gruppo della distribuzione gas, multi utility toscano e ASET, la nostra municipalizzata fanese, abbiamo lavorato appunto sulla possibilità di introdurre una piccola percentuale di idrogeno consentita dalla normativa che fissa il limite al 2% in blending con il gas metano per poter utilizzare anche l'idrogeno nella distribuzione cittadina. Oltre a questi il lavoro sta andando avanti naturalmente perché cosa difficile dell'idrogeno sarà quella di innescare, attivare un mercato per cui più sono le potenziali utilizzi e maggiore sarà appunto il successo e anche la sostenibilità economica del nostro investimento. Interlocuzioni sono avviate anche con Snam già al tempo del bando per poter valutare anche l'immissione in rete, nella rete nazionale in blending sempre al 2% dell'idrogeno che va questo chiaramente a supportare anche le strategie nazionali e non solo del nostro trasportatore di Stato per la realizzazione dell'idrogen backbone europea ma anche chiaramente che ricade nella rete italiana e del South Corridor che vede collaborare il nostro governo italiano con Astro e Germania per trasportare idrogeno dal sud Italia fino ai paesi europei del nord. Altre interlocuzioni sono attive con operatori e industrie private per l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante naturalmente perché c'è interesse chiaramente a sviluppare anche localmente laddove ci sarà la disponibilità di idrogeno, un mercato legato anche ai camion, al trasporto di merci non solo di persone. Ecco il contesto è questo, vedete gli utilizzatori, si parlava di prossimità di utilizzo locale, il nostro progetto parte proprio da questo fondamento ovvero un utilizzo localizzato perché qui abbiamo la cabina di AS, AMI, Adria Bus sarebbe disponibile a ritirare l'idrogeno proprio presso l'impianto nella nostra stazione di rifornimento e poi l'utilizzo industriale in primis con Profilgas avverrebbe qua. Altro progetto come vi dicevo è quello legato alla distribuzione quindi la stazione di rifornimento sulla quale appunto stiamo lavorando e questo è il layout che stiamo sviluppando. Noi siamo partiti con gli sviluppi del progetto nonostante siamo quelli che arrivano dopo gli altri, siamo felici naturalmente di essere stati tra virgolette ripescati, è un ripescaggio diciamo di qualità perché nella graduatoria nazionale dei progetti riammessi con i fondi del Repower Tecfem, Energy Tecfem si è posizionata al terzo posto nazionale quindi siamo contenti ecco di portare alto l'onore delle marche dal punto di vista tecnico e imprenditoriale. Però chiaramente aspettiamo adesso anche queste ultime formalizzazioni con i decreti MASE e regionale per rendere attuato quindi quello del MEF. Però ecco quest'anno di ritardo sicuramente è un po' pesante, è un po' pesante però per fare il miracolo sicuramente ci sarà bisogno di un lavoro di concerto, l'assessore Antonini lo ha detto stamattina, dobbiamo lavorare appunto per rendere possibili e portare a raggiungere gli obiettivi tutti insieme e questo lo trovo molto giusto e molto logico e sicuramente ci aspettiamo ecco che gli enti che saranno coinvolti negli interautorizzativi del progetto di Fano abbiano la stessa celerità, la stessa attenzione nel risponderci alle stanze. Grazie mille. Bene, l'assessore Antonini mi ha pregato di concludere, di portare i suoi saluti perché è dovuto correre a un altro impegno e quindi non può fare lui le conclusioni e io ringrazio tutti i partecipanti spero che sia stato un momento in cui questa materia dell'idrogenvalli sia stata un pochino chiarita e sia anche un modo perché attraverso questa conferenza stampa anche le persone comincino a capire che cosa andiamo facendo. Colgo l'occasione delle conclusioni per ringraziare il lavoro fatto dalla Politecnica delle Marche, qui c'è il professor Polonara e da Enea che ci hanno dato un notevole supporto e hanno fatto parte appunto della commissione che ha valutato i progetti e che ha fatto sì che questo percorso andasse avanti tra l'altro nei tempi dovuti quindi anche con un lavoro molto serrato per arrivare dentro le scadenze che le Marche ha rispettato ma non tutte le regioni ha rispettato. Quindi io ringrazio tutti i presenti e ci rivedremo con gli aggiornamenti sul percorso.